Però c'è che bisogna soltanto lavorare, senza farli voli pindarici, bisogna mettersi sotto, incontrare lo staff tecnico, l'allenatore, parlare con la squadra e intanto pensare alla partita di domenica che è la più importante adesso, che non possiamo assolutamente sbagliare. La società è stata chiara nella riconferma dell'allenatore, poi è normale che nel calcio ci sono i risultati e i risultati contano. Ho detto che è un'ottima squadra e che sicuramente va ripuntellata. I giocatori devono stare tranquilli, ma comunque sia devono sapere che a dicembre la società interverrà sul mercato, quindi bisogna dare il massimo partita dopo partita e vedere poi dove intervenire. Ma sono stato chiaro che sicuramente si interverrà in tutti i reparti. Già ho detto di Cascione che ne parlerò col mister, ci vedremo oggi pomeriggio e parleremo con l'allenatore che l'ha visto questi giorni allenarsi. E se sono stato chiaro anche sul discorso degli under, sicuramente arriveranno degli under. No, no, sono stati punti di riferimento. Roberto Muzzi, lo sapete tutti, è quello che mi ha presentato alla proprietà per il settore giovanile. Enzo l'ho conosciuto qua, ho conosciuto una grande persona, un amico. Ci sentiamo tutti i giorni quotidianamente. Il direttore purtroppo sta vivendo questo momento difficile e sono molto rammaricato di questo. Però non mi ispira a nessuno, mi ispira a me stesso e spero di poter dimostrare qualcosa di importante che questa piazza merita. Sarà difficile, sicuramente i tifosi sono arrabbiati, sono delusi, hanno le loro ragioni. Sicuramente ci portiamo dietro i strascichi della retrocessione dell'anno scorso, che è stata drammatica. Però chiedo soltanto un po' di pazienza e tempo di poter lavorare e di poter mettere mano su tutto. Io mi auguro che già da domenica i risultati cambiano e poi spero da dopo il mercato di fare un rush finale importante e di poter riportare questa squadra in Serie C e nel posto dove merita almeno nei professionisti.